Dopo lo sciopero e la protesta di ieri a Roma, le nubi su industria italiana autobus non si diradano ma si infittiscono. L'iniziativa, e non per colpa dei sindacati e dei lavoratori, non ha prodotto alcun frutto. Alcuni cortesi funzionari di seconda fascia del Ministero hanno fatto come Troisi con Savonarola, me lo segno, dopo aver ammesso che la situazione di galleggiamento dell'azienda non è ulteriormente procrastinabile e che sul socio privato nulla ancora è stato deciso in attesa di verificare la loro sostenibilità finanziaria. Quando avverrà questo? Con quale quota societaria? Con quali responsabilità? Niente si sapeva, niente si sa, niente si saprà, almeno per i prossimi mesi. Non è inverosimile che l'avvertenza si trascinerà fino a dopo le elezioni europee. Nel frattempo Bologna e Flumeri continueranno a perdere 3 milioni al mese con il conto del Pozzo di San Patrizio che ha già superato agevolmente i 180 milioni di debiti. Su questo scoglio rischia di naufragare il futuro di industria italiana autobus.